Siamo in un nuovo video, sono in un ritratto pazzesco comunque questo è un video sul calcio mercato del Milan o meglio non proprio è più o meno un video dove avendo praticamente peso 1015 stravecchio per la PS3 ogni tanto devo aggiornare i giocatori e creare quelli che compri in Milan quindi vi farò vedere cosa abbiamo fatto nel mercato di gennaio e i due giocatori che ho creato e allora vediamo questi vabbè c'erano già a gennaio che è successo è arrivato Begovic che stava già nel gioco e Kier che stava anche questo già nel gioco poi ho creato, perché mancavano vabbè è tornato l'axalta ma chi se ne frega ho creato Gabbia e Selemakers poi vabbè ha debuttato Daniel Maldini ma non l'ho fatto anche perché vabbè ha fatto tipo 20 secondi quindi non lo so quanto cacchio conveniva non che Gabbia abbia giocato Gabbia abbia e quindi andiamo a vedere velocemente questi giocatori vabbè allora 15 anni perché è peso 2015 quindi dovevo mettere l'età più o meno per quel periodo lì 1,85 per 78 kg può fare il centrale ma anche il mediano andiamo a vedere un pochettino tutte le caratteristiche veloci veloci impostazioni base numero 46 posizione registrata vabbè centrale ufficiale posizione giocabile abbiamo detto mediano andiamo a vedere subito le abilità abilità soltanto quelle specifiche diciamo che gli ho messo 75 le abilità io le ho prese da Passmaster che vabbè è il sito che le prende da quelle che sono le statistiche di Passmaster e quindi passiamo all'aspetto veloce veloce allora si è pure raffreddato viso qua non ho toccato niente qui nemmeno struttura facciale questa è qui forma sopracciglia tipo 2 forma dell'occhio poi orecchie niente di che naso tipo 3 bocca tipo 1 poi vabbè un pizzico di barbetta e vediamo qui qualcosa altro riguardante l'ex capitano della primavera corti lesci 77 fisico questo qui si vede tutto 1,85 stile divisa niente di particolare e che altro movimento giusto così 3 e per ora con lui abbiamo fatto Selemakers acquisto belga può giocare praticamente dappertutto sulla fascia destra e anche altrove ovvero il buono 75 anche lui molto giovane 1,80 andiamo a vedere velocemente Selemakers si chiama di nome Alexis numero 56 impostazioni di base vabbè piedo destro posizione registrata vabbè tecnicamente un esterno destro alto o comunque di centro campo e poi può giocare un po' dappertutto come potete vedere abilità andiamo a dare un'occhiata allora può fare un paio di cose è più complicato rispetto all'altro che cosa c'ha qui c'ha il cross calibrato e spirito combattivo questi di gioco terzino offensivo come in possesso esperto pari lunghe e cross tre quarti aspetto viso non è stato particolarmente difficile pelle niente di particolare grandezza testa viso lui è piccino poi struttura facciale forma sopracciglia forma dell'occhio vabbè se vado troppo veloce ovviamente stoppate occhio ceruleo le orecchie che sono così naso bocca barbetta anche lui assomiglia a gabbia impressionante vediamo un po' la capigliatura diciamo c'era così lui è biondino fisico vabbè 1,80 m slanciato ma comunque non troppo magrolino stile divisa guantini e via poi la scarpetta l'ho messa bella colorata visto che è giuvine qui c'ha questo tipo di corsa un po' così e niente è tutto anche per lui quindi questi qua sono i due giocatori che ho creato tra poco c'è il derby forza mia un po' così